Lionel Spinola, oggi non c'è stato bisogno del tuo gol, ci hanno pensato i tuoi compagni, tre gol Kelo, un gol Sarrizzo, però ci hai messo lo zampino. No, io sono felice prima per la vittoria e dopo per loro, che stanno lavorando bene per fare tutto nel campo, quindi io sono felice per loro. È una vittoria, abbiamo detto, importantissima per la Torres, quella di quest'oggi? Certo, è una vittoria molto importante per noi, abbiamo arrivato a Cagliari a vincere per forza, quindi oggi la vittoria che noi portiamo a casa è molto importante. Si è vista anche una bella prestazione, al di là del risultato, una Torres vivace contro una squadra che sicuramente non mollava un centimetro. Sì, un po' così come lo vedi tu, lo abbiamo visto noi, una squadra molto difficile, che nel campo suo si fa un po' forte, però noi siamo sempre convinti del risultato, del che vogliamo portare a casa, quindi abbiamo portato un risultato molto importante. Lionel, è una Torres che sta crescendo, tu stai vedendo questa crescita della squadra da un punto di vista fisico, ma anche tecnico-tattico? Sì, io molto non posso parlare di questo perché veramente non è stato dell'inizio, quindi non lo so come viene iniziato, però che è arrivato qua hai visto che stiamo lavorando bene, la società si comporta molto bene, sta sempre vicino a noi, la chiudo del mister e anche del prof, fanno un bel lavoro, quindi si vede i risultati dopo. Grazie Lionel Spinola. Grazie a voi.